Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Chi crede in lui ha la vita eterna. Chi non crede si condanna da sé perché resta all'oscuro nelle tenebre. Noi abbiamo fiducia che ciò per noi non avvenga. Comunque anche nel castigo, come è successo per il suo prodigo, c'è un disegno providenziale di misericordia e di grazia che è un ammonimento per tutti. La ricchezza della misericordia di Dio e dell'amore di Cristo viene pure affermata da Gesù nel suo celebre colloquio notturno con Nicodemo. La salvezza viene dal Cristo innalzato sulla cruce. Un crocifisso può assumere atteggiamenti di giudice inesorabile, ma non può accedere come giudice, ma solo come l'immagine di Salvatore. Noi siamo responsabili del mondo e se corrispondiamo a questo dialogo che Dio ha voluto intavolare con noi, il dialogo della salvezza fu aperto spontaneamente dall'iniziativa divina. Dio non mandò il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché sia salvato per mezzo di lui. Paolo VI in Acclesiam Suam dice «Non dobbiamo tuttavia dimenticare, chi non crede è già giudicato». Le parole di Cristo sono insieme parole di giudizio e di grazia, di morte e di vita. Infatti, soltanto facendo morire ciò che è vecchio, possiamo giungere a un rinnovamento di vita. «I ricordi di te, oh Signore, è la nostra gioia. Sui fiumi di quest'esilio terreno sediamo piangendo nel ricordo del Signore. Il peccato, la carne, il mondo ci chiedono di cantare, ma come cantare degnamente in terra straniera, lontani da Dio? Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. O Gesù, se non metto la tua croce al di sopra di ogni mia gioia». È il Salmo che noi ricitiamo tante volte. Oggi possiamo citare la parabola bellissima del figlio prodigo. Una parabola che ci lascia perplesso, però è anche una parabola molto reale. Il figliuolo, invaghito dalla trasmissione televisiva, chiede al padre quello che gli spetta e parte via dalla casa, lasciando nel dolore e nella sofferenza il proprio padre. «Si riduce nella miseria, nella fame e nella disperazione e pensa di ritornare a casa sua, a casa mia. I servi stanno bene e io qui muoio di fame a pascolare i maiali». E decide di ritornare. «Dirò, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, ma accettimo come tuo servo». E il padre li corre incontro, lo abbraccia. Questa è la nostra realtà. Noi ci allontaniamo da Dio e Dio ci aspetta. Aspetta il momento propizio per venirci incontro, per abbracciarci e per dire, come disse al figlio prodigo, chiamate i servi, portate il vestito bello, metteteli l'anello a dito, segno della regalità, di un uomo libero. E Dio ci aspetta e ci abbraccia. Non ci allontaniamo da Lui, definitivamente. Dobbiamo sempre pensare di ritornare a Lui e fare questo passo il più presto possibile. Amen.